Quarto forum nazionale di Confcommercio dedicato a imprese e cultura. Tantissime le personalità presenti qui al Palazzo Montaniantaldi di Pesaro per discutere di tematiche fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio. Il tema è affascinante, è un tema che ci prende molto come Confcommercio di Pesaro Rubino tenendo conto che da anni stiamo spingendo le amministrazioni comunali anche con il progetto itinerario della bellezza a ipotizzare un diverso modello di sviluppo economico basato sulla valorizzazione della bellezza la valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente, dei paesaggi la riflessione che si apre oggi con questo convegno va in questa direzione capire quanto l'economia della bellezza, quindi l'economia culturale in senso lato può portare per lo sviluppo economico e turistico del territorio. La cultura ovviamente non deve essere dipendente del turismo però devono dialogare, cultura e turismo devono dialogare insieme e rapportarsi perché un evento culturale può avere un impatto economico rilevante se vengono utilizzati i tempi del turismo. Oggi la cultura abbiamo visto che è un valore economico importante per l'economia marchigiana tante aziende stanno lavorando nel sistema della cultura e la cultura può essere anche un valore aggiunto per i nostri giovani per trovare lavoro anche per loro però ecco non dobbiamo dimenticare che l'impresa deve essere poi dopo sostenuta aiutata, facilitata in alcuni percorsi. Penso è proprio a mio giudizio un caso di specie perché l'idea che questa che è una città che appunto conosco bene della balneazione adriatica come ce ne sono tante grazie appunto all'Ossinio Opera Festival che è stata un'iniziativa che nasce da un'esigenza non turistica ma da un'esigenza fortemente culturale è diventata una capitale della musica che vede l'affollamento di spettatori che vengono da ogni parte del mondo al Festival Rossini, al ROF.